Hola amigos! Io sono Martina e devo dirvi che la musica che sto per presentarvi e che tutti conoscete ma è una corica d'energia ed è un vero esaltante. Quello che state per ascoltare è la parte finale del brano ed è anche la più bella. Stiamo parlando dell'inno della UEFA Champions League che accompagna la competizione calcestica europea che fu composto nel 1992 da Tony Brittain. Ispirandosi ad un'opera di un compositore famoso del periodo barocco, Georg Friedrich Engel. Il testo cantato è stato scritto in tedesco, in francese ed inglese. The Champions! Potrete seguire le note in questo video che scorrono in stile fra fraoke e suonare col flauto dolce, la melodica o il violino. Inoltre potrete seguire le note che cadono sul pianoforte e realizzarle con l'app di Sintesia e suonarle sulla tastiera. Buon ascolto a tutti, buona musica e ciao! Buon ascolto a tutti! Grazie a tutti! Buon ascolto a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Buon ascolto a tutti! Allora, vi è piaciuta la musica? Riascoltiamola e provate a suonarla. Non è difficile e non dimenticate di scrivere le note sul pentagramma. Grazie. Grazie a tutti. Allora amici, purtroppo è arrivato il momento di salutarvi. Ma non dimenticate di iscrivervi al canale, di premere sulla campanella per non perdervi nessun video, di lasciare un commento, di mettere un mi piace e alla prossima. Asta pronto! Aspetta, chiudo un attimo. Ispirandosi ad un'opera di un compositore. Allora amici! Allora amici! Allora amici! Allora amici! Ciao, ciao!